Quali sono le prospettive del settore tessile e dell'abbigliamento e come si incrementa l'internazionalizzazione delle imprese del sistema moda che operano sul territorio campano? Se ne è parlato nella sede dell'Unione Industriale di Napoli, nell'ambito del convegno dal titolo Internazionalizzare per crescere e competere nel settore della moda, organizzato da Unicredit e Unione Industriale di Napoli. Elena Goitini, direttore regionale sud di Unicredit, spiega ai nostri microfoni l'importanza dell'incontro. L'internazionalizzazione è sicuramente uno dei presupposti per diventare più grandi. Farlo nel settore della moda e dell'abbigliamento passa attraverso la capacità di riuscire ad accompagnare imprese molto creative, anche con belle idee, capaci di fare bene il proprio business sul territorio domestico, a esplorare il potenziale che può offrire un mercato internazionale. Comunicredit ci siamo, ci piace pensare di avere una vocazione internazionale che ci permette di capire bene il mercato locale, ma di aiutare le aziende a interpretare e ad accompagnarle sul mercato internazionale. Lo vogliamo fare soprattutto all'interno di questo settore, considerata la fame di Made in Italy che c'è. La Campania è la quinta regione in Italia per numero di aziende attive nel tessile abbigliamento, prima tra quelle del sud. Ed è buono anche l'andamento dell'export, ma secondo il consigliere Sistema Moda Italia con delega al Mezzogiorno, Carlo Parmieri, la strada più efficace affinché le aziende possano affermarsi anche a livello internazionale, c'è bisogno di coniugare creatività e intraprendenza. C'è bisogno di aggregarsi, c'è bisogno di fare squadra, c'è bisogno di aumentare le dimensioni perché il mercato domestico, l'angue è tuttora e c'è bisogno di internazionalizzare e quindi ci sono degli strumenti idoni a questo. Per esempio abbiamo parlato oggi degli accordi e dei contratti di rete che sono dei strumenti snelli che lasciano l'autonomia dei brand, delle aziende, però fanno sì che si possa colmare i gap con le grandi aziende multinazionali che purtroppo creano una concorrenza.